Come dire, l'enfasi da Bruxelles, io ho detto che è stato costituito in termini privatistici, non essendoci nel trattato altri strumenti. Quindi la cosa giusta fatta con lo strumento allora è possibile. Poi caduto il governo Berlusconi, arriva il governo Monti e nel 2012 viene modificato il trattato introducendo il fondo nei meccanismi del trattato, quindi nasce in emergenza privatistico e poi diventa parte del trattato e quindi pubblicistico. Questa è la storia, il resto può essere solo impressioni. Detto questo, la cosa giusta non è stata fatta sulla Grecia, non è stata fatta negli anni successivi. Non vedo che senso abbia adesso. Vede, adesso il nostro ministro che torna da Bruxelles mi ricorda Chamberlain che torna dopo Monaco. Ai tempi si diceva che poteva scegliere tra la vergogna e la guerra, ha avuto la vergogna e avrà anche la guerra. Qui ci sarà che c'è la sottomissione e ci sarà anche la crisi, perché con queste persone, in questi termini, a Bruxelles, con quella logica si fanno solo disastri per i popoli.